Quindi, come vi dicevo nella prima parte, io dovrei essere giudicato da chi? Dai ladri. Io devo essere giudicato quest'anno da chi? Da quelli che sono andati a Genova e hanno fatto un disastro di dichiarazioni folli sulla questione del braccio in area a tempo scaduto. Io dovrei andare a parlare con chi? Con chi? Con quelli della Juve che parlano di complotto, che dopo Udinese, Torino, anzi prima nella partita col Bologna, davanti agli occhi del mondo dove non c'è un contrasto, dove non ci sono nessun senso contrasti che possano coprire. Cioè c'è una visione chiara di Indoi e di quello che accade in quell'area e infatti gli arbitri non possono che scusarsi, ma non ho sentito gente. Io sento di gente che dice l'arbitro fa il suo lavoro, poi dopo un giorno esce la multa di 10.000 euro perché Allegri fa 50 minuti nello spogliatoio a urlare e insultare tutti. Poi fa davanti alle telecamere e dice ma l'arbitro fa il suo lavoro, io non parlo degli arbitri. È questo? È questo lo stile di chi mi giudica? Vorrei chiedere se oggi devo essere giudicato da questi qua, da quelli che dagli anni 60, dagli anni 70, 80, da chi si è venduto la maglia, dalle macchine della polizia dentro e fuori gli stadi per portarseli via e da arrestarli dietro le sbarre con il tipo Albertosi. Io devo essere giudicato da questi qua. E oggi che cosa vogliono? Cosa vogliono fare? Cosa vogliono creare? Un complotto non esiste quando dopo 15 minuti di recupero dati, dopo 15 minuti di recupero dati, la partita più lunga dopo un Inter-Roma. Cioè Inter ieri questa partita tra virgolette sulla carta era tranquilla eccetera diventa la partita più lunga della storia dell'Inter o del campionato, ha battuto non so quante partite, è andata tanto così credo da una partita della Roma proprio di quest'anno. E al minuto 100 viene dato un rigore perché? Perché Darmian cerca di calciare la palla e prende i tacchetti dell'avversario, che rimane in piedi, gioca tutto pagliaccio, poi a un certo punto si lascia cadere. Perché il dolore arriva dopo? O perché perde il pallone? O perché sa che qualcosa gli daranno? O perché qualcuno fa eh eh? Quelle classiche cose che si sentono durante le partite. Lui magari gli arriva qualcosa, qualche sinapsia, allora collega e dopo essere tornato a giocare si butta per terra. Dopo aver sentito le rotture di coglioni per la questione di Lobotcam avete fatto due coglioni come questa lampada e dopo tutte le rotture di coglioni sul fatto che il calcio è europeo, il calcio è maschio e quindi quest'anno i contrasti no? Dopo aver sentito per due anni da quei ladri, 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 ladri che hanno ladrato un campionato intero, hanno ladrato partite da ufficio inchieste. Dopo che quel pirla di Sanchez non rimane a terra, dopo che Giroud gli sventra la faccia e il mento, dopo tutti questi episodi in cui contrasti, dovevamo star zitti perché era contrasti di gioco, quello di Lukman su di Marco è un contrasto di gioco, poi si va a Napoli e siccome fa comodo rivoltare la frittata non sono più contrasti di gioco ma sono episodi da fischiare e tra l'altro dubbi. Talmente dubbi che persino gli albiti chiamati poi a parlare dicono Lobotka-Lautaro è una storia diversa, c'è prima un intervento su Lautaro che poi non è la storia del frame finale e allora io devo sentirmi tutto questo, cioè mi sono sentito dire il calcio maschio, il calcio maschio e poi qualcuno mi racconta in un frame che Bastoni di colpo gli si chiude la vena e commette questa cosa, le ho dette ieri, in tutte le trasmissioni, non le dico oggi le spiego più tranquillamente, ok? Qua sul video ma perché vedo che non sono entrate in qualche... ecco, non volevo dire cervello perché è troppo, cervello per molta gente è troppo. Non so se vi è entrata. Allora ve la parlo, ve ne parlo oggi e parlo magari con un eloquio un po' più così forbito, un po' più da belle tocque, così magari vi entra in quei crani vuoti. Perché ne ho parlato ieri, non sono cose che oggi ho cambiato, non sono cose che oggi ho affinato perché ieri c'era già, visto che poi riguarda la mia squadra, c'erano già gli elementi per valutare quello che fa Bastoni. Ma l'ho spiegato, però anche sulle chat private c'è gente in malafede. C'è un contrasto in area dove Bastoni per tre volte viene attaccato, una lieve e una media e una macroscopica a due mani. Se si lascia cadere come tanti sacchi di cazzi, se lui si lascia cadere spinta a due mani, quello è calcio di rigore per noi e non azione che prosegue. E invece cosa fa? Duda continua a spingere, spinge, spinge, spinge a due mani, commette un'infrazione da regolamento, Bastoni sta per cadere all'indietro a un certo punto. Sulla spinta finale Bastoni alza le braccia, essendo poi un filiforme, no? Bastoni alza le braccia e sta per cadere all'indietro. Però le immagini le dovete vedere, se no dovete cambiare sport, dovete fare l'uncinetto, dovete guardare Berlino. Non dovete guardare il calcio. Sacchi di cazzi. Bastoni sta in piedi per miracolo. Bastava una caviglia che si girasse, un tacchetto messo male e dopo 90 minuti in campo, anzi 100 minuti, Bastoni cade all'indietro. Quello è calcio di rigore. Intervento ripetuto e continuato, falloso e due mani. Duda fa quello, fa cerca di allontanare Bastoni dal pallone commettendo fallo. Se Bastoni cade è calcio di rigore. Bastoni sta in piedi, l'azione prosegue, dopodiché qualcuno non ci fa caso, ma Duda va per la quarta volta verso Bastoni, perché la palla è alla sinistra di Duda. E Duda va verso il pallone, dopo essersi liberato in maniera fallosa, clamorosamente fallosa, di Bastoni che però rimane in piedi. Va ancora verso il pallone e se voi fate caso non è. Bastoni va, va e non so se qualcuno ha mai fatto le alzate laterali. Ok? Il mio amico Daniele mi dice, no, le alzate laterali le hai sempre fatte male. In realtà le alzate laterali è, fai finta di lanciare i pesi così, laterali, non devi sollevare, devi far finta che tu hai i pesi con le braccia e tu fai finta di lanciarli, ok? In questa posizione, li lanci così, direttamente di fianco, capito? Allora, cosa fa Bastoni? Fa questo, ok? La gomitata è un'altra cosa, basta cercare sul dizionario. Gomitata, colpo del gomito. Invece qualcuno ha parlato di spallata e qualcuno ha parlato di sbracciata e qualcuno invece, che è falso sui giornali, ha parlato di sbracciata con gomito che si alza. Ma basta cercare, basta scrivere gomitata, ok? Quella non è una gomitata, dire che è una gomitata è falso. Così come è falso soprassedere sugli episodi e sulla conduzione generica di una partita che ci aveva fatto sobbalzare tutti dal divano, forse dallo stadio no, perché certe cose allo stadio passano in cavalleria. Chi va allo stadio, come me, come voi, sapete benissimo che alla tv vedi meglio certe cose, allo stadio vedi meglio altre. In questo caso molte cose allo stadio non le vedi. In tv sì. Lautaro non commette nessun fallo sul gol del Verona. Arnautovic il fallo lo subisce perché se ne avete rotti i coglioni su Dobotka, su Arnautovic dovete stare zitti. Quello è fallo e fine. Ripeto, io sono quello che ha benevento Inter, ha fatto i video sul 5-2 dicendo occhio che c'è un problema VAR. Occhio che state strappando il regolamento e lo dico da interista che ha vinto 5-2. Occhio che poi si va avanti e succede qualcos'altro. Occhio, Marotta parli. Quindi, 5 giornate dopo, 5 giornate dopo, all'Inter vengono rubati due rigori. Uno su Vidale e uno su Perisic che è talmente grande che all'epoca, e qua mi spiace, c'era Antonio Conte, quindi gli aveva detto vai a parlare perché non è normale. E Marotta va a parlare, a differenza di quest'anno. Va a parlare e dice, ma cosa succede qua? Noi siamo stati penalizzati in maniera clamorosa. E allora, dopo questo caos, arriva questo. Ecco qua. Caos Inter-Palma. La risposta di Rizzoli a Marotta. Ok? Beppe Marotta nel post-match era stato piuttosto diretto. L'episodio su Perisic è un esempio lampante su come la tecnologia può essere d'aiuto oppure no. Non sono qui per protestare ma per denunciare un vuoto normativo. A quel punto Nicola Rizzoli, ex arbitro, interviene su Sky Sport e dice su Perisic c'era un rigore da punire. Perché l'attaccante perde il tempo e il difensore bla bla bla. C'erano le condizioni per intervenire col VAR. È un errore e un orrore individuale. E dice a prezzi togli di Marotta che si approccia in maniera costruttiva e non polemica all'utilizzo del VAR. Eravamo avanti noi però faceva comodo vedere la Juve di Ronaldo all'epoca di Sarri macinare punti e vedere l'avversario arrancare appena alzava la testolina boom bastonata. E quest'anno è uguale ma Marotta non lo capisce. Marotta non capisce. All'epoca c'era Conte che diceva vai devi parlare. E lui andava. E infatti qualcosa forse per il bene non dell'Inter. Che pure quell'anno poi alla fine appunto fu l'anno dello scudetto e l'anno... Anzi questo no. Questo no. Questo è l'anno in cui l'Inter scusate l'anno prima dello scudetto. Quello in cui eravamo primi. Quello in cui certe cose contavano doppio. Quei punti con palma sanguinano. Perché poi arriva l'anno. Poi arriva il discorso pandemia eccetera. E invece Marotta ora sta zitto. Ma ce ne ho altre da dirvi. E adesso ve le dirò.